Ciao Davide, benvenuto all'Inter. Grazie. La prima cosa che ti chiedo è perché hai scelto l'Inter? Beh, intanto basta un attimo girarsi, insomma, per capire l'importanza di questo club. E poi parte tutto da un anno e mezzo fa, da quando poi abbiamo fatto quella partita a San Siro, appunto, contro l'Inter. Lì sono stato veramente colpito dallo stadio da tifosi. Quindi per me, siccome quello è molto importante, non ci ho pensato un attimo quando si è presentata l'opportunità. Cosa ti aspetti da questa esperienza e cosa pensi di poter dare all'Inter? Ma intanto spero di vincere qualche trofeo, quello poco mi assicuro. E poi chiaramente impegno prima di tutto, serietà e spero anche qualche gol. Grazie alla Nazionale, immagino che avrai avuto modo di conoscere già qualche nuovo compagno. Sì, sì, assolutamente. Sono tutti dei bravissimi ragazzi. Poi conoscevo Alessandro Bastoni da molto più tempo perché è un 99 come me e abbiamo fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili. Ecco, non vedo l'ora di diventarci compagno anche con la squadra di club. Contro l'Inter, Davide, hai sempre fatto bene. Cittavi prima la partita di San Siro. È vero che dopo quella partita hai ricevuto i complimenti di Marotta? Sì, è vero. Beh, è stato emozionante perché poi quando il gente di quel club libro ti fa i complimenti è sicuramente un riconoscimento importante. Quindi ecco, ha fatto anche quello parte della mia scelta. Il tuo arrivo all'Inter andrà a rafforzare un centrocampo di grande qualità. Questo sicuramente sarà un motivo di crescita per te. Sì, sì, beh, assolutamente. Vado a giocare con dei campioni. Quindi posso solo rubare durante gli allenamenti a loro e cercare di prendere le cose positive e poi riportarle in campo. Quindi sarà un onore e un piacere per me. Destino vuole la prima di campionato. Sarà San Siro contro una squadra in cui hai giocato il Monza. Beh sì, è una squadra dove ho lasciato il cuore. Sono amico con tutti, mi sento con tutti. Quindi sarà sicuramente una doppia emozione decisamente importante. A proposito di emozioni, che effetto ti fa poter giocare in uno stadio con un tifo caldo come quello di San Siro? Beh, da avversario era difficile. Sicuramente da calciatore dell'Inter sarà un motivo di spinta in più. Non vedo l'ora di segnare e di andare a saltare sotto la curva. Grazie mille Davide. Grazie a voi.